torna in campo sassari lo fa vincendo 95 84 sul cremona nell'anticipo del sabato sera dopo la pausa forzata per il covite 19 la squadra di cospozzecco torna in campo e vincere grazie un secondo periodo stellare 13 a 3 break con un 15 su 33 dall'arco 6 di quelle triple su 12 i tentativi le mette a segno craslin chiude a quota 20 doppie doppie anche per villan 18 punti 11 rimbalzi e barnell 13 punti 12 rimbalzi oltre ai 14 di gentile condito anche da 6 assist e dell'ex hype in 18 minuti a cremona non possono bastare i 23 punti di miani 20 di barford e gli assist di poeta 11 in questa circostanza con questa vittoria la dinamo sale a quota 28 in classifica ferma invece a 16 la vanoli la vanoli